L'uso delle armi nucleari da parte della Russia è possibile solo in accordo con la sua dottrina sulla deterrenza. Tocca al portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, tentare di smorzare la minaccia nucleare invocata ieri dal leader ceceno Kadyrov, che aveva chiesto a Mosca di usare in Ucraina le cosiddette armi nucleari tattiche, ordigni cioè a bassa potenza. Dichiarazioni emotive ha tentato di liquidarle Peskov, ma che hanno comunque provocato la reazione immediata e ferma della Nato. Cambierebbe la natura del conflitto e ci sarebbero conseguenze gravi per la Russia, ha detto il segretario generale Jans Stoltenberg, lasciando intendere che l'alleanza atlantica entrerebbe direttamente in guerra. E mentre la Svezia ha fatto sapere che, contrariamente a quanto dichiarato dalla società russa Gazprom, la perdita del gasdotto Nord Stream 2 non si è fermata, ma è cresciuta di dimensioni, le forze russe hanno avviato la mobilitazione forzata della popolazione. Nel distretto occupato di Melitopol, nella regione di Zaporizia, testimoni raccontano di uomini presi per strada e arruolati con la forza. E proprio nella regione di Zaporizia, nella notte, le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico che ha distrutto alcune infrastrutture. Zaporizia, insieme a Donetsk, Lungask e Kherson, sono state annesse oggi ufficialmente alla federazione russa. La Duma, il Parlamento di Mosca, ha infatti riconosciuto il risultato del referendum farsa che si è svolto nei giorni scorsi. Un referendum illegale che ha violato ogni norma internazionale, ha detto oggi il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, all'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, ribadendo, in un incontro avvenuto questa mattina, la posizione del nostro governo e ricordando che l'Italia continuerà a fornire sostegno all'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario. Dichiarazioni respinte categoricamente dall'ambasciatore Razov come ha comunicato l'ambasciata russa in una nota.